Grazie a tutti Numero? Quattro Oggi è giovedì Con l'accento sulla i con l'accento Giovedì Giovedì So my aunt told me that it would be a good idea to put a little dot under the letter with the accent just to remind you I don't know if it helps visually Giovedì Un Uno Marzo Marzo Due mila Due mila Ok, ok, ok Let's restart Oggi Oggi Which means Ooi Dideri E E Giovedì 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 Marzo Due mila e dodici Due mila e dodici Due mila e dodici So, you can say it both ways Either due mila Due mila e Dodici 2012 Or, all together Due mila e dodici Yes, due mila e dodici Come state? Stopame Come, how do you say I have? Ho fame State tutti bene? Si 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 Qualcuno ha sonno Some of you are Sleepy He say means Course Then How do you read this? Cosa Che Che Cosa Che Che Cosa Che How Come Come Dove Quando Dove Perchè Perchè So, let's start with Qui 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 For example, I'm going to ask you Qui ha scritto 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 La La Divina Comedia 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 The divine book Not all that No, not all that Comedia This is Defeat So, who wrote The divine comedy? Dante Algielli Ha scritto La divina Comedia Benissimo Yes Dante Algielli Il Poeta Poeta Means Poet Dante Alighieri And if you don't know who Dante Alighieri is Be sure to Google his name as soon as we finish class Because we say that Dante is il sommo poeta Like the supreme poet Beginning like 1300 something like that He died around 1330 And I'm talking about a very long time to write his biggest masterpiece That is La Divina Comedia If I wanted to ask who is, and then I give you a name What should I write? Chi è È For example, chi è Corrado? Chi è Corrado? Who is Corrado? Who is running? It's similar to Correre Corrado Well, if you can't know who is Corrado He's my cousin Corrado Cugino And then his cousin is Cugino Cugino Does anybody want to try to write cousin? Cugino 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 No Questa. Questa. Tazza. 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 È dell'experimental study group. È mia. Or I can use chi in the question, for example, I could ask you, a chi piace leggere? Non ti piace leggere? No. Mi piace leggere. Oh, ti piace leggere. Va bene. A voi? Non piace leggere? Allora alzate la mano. Raise your hand se vi piace leggere. Mi piace leggere. Ok. Let's see some questions with what. Oh. Literally, by the way, cosa means thing. Thing. But you can use it to ask questions. What? For example, I can ask che cosa mangiamo oggi? What does it mean? What are we going to eat today? Yeah! Gnocchi. 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 So. Che cosa? Cosa? There are potato dumplings. Oggi? Oggi? So, you can ask che cosa mangiamo oggi? Che cosa mangiamo oggi? Che cosa mangiamo oggi? Yes. Or you can just write cosa mangiamo oggi? Oh, you can just... Che mangiamo oggi. Che mangiamo oggi. Che mangiamo oggi. Oh, che mangiamo oggi. Ok. That's why I wrote the three options there. Oh. Easy for today. Mangiamo. Mangiamo. And you take them both out. You have mangiamo. Mangiamo. Gnocchi. 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 Mi piacciono gli gnocchi. Mi piacciono gli gnocchi. Mi piacciono gli gnocchi. Bellissimo. Gnocchi. cosa fai domani sera? cosa fai domani sera? cosa fai domani sera? so, I'm talking to you and I'm asking you what are you going to do tomorrow? or another useful question could be che ore sono? che ora sono? che ora sono? che ora sono? che ora sono? ombre è sette non dice che ora è non si dice che ora è sì, sì e medio ma non risponde con è sono sono le sono de le sette ora e mezza Il dottor se dice, sono la una. È l'una. We will discuss time a little bit more in detail. So you know how to ask, che ore sono? Sono le sette e mezzo. Since we asked the question using the indicative present, I didn't ask, cosa farai? That would be the future, domani sera. I asked, cosa farai? Using the present, which is quite common in Italy. Then you can answer also with the present. And what would be the present? No, the present indicative first person. Dormo. 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 And it would be fine. What's the present for farai? So farai is indicative present, and it's the second person. It's from the verb, the infinitive is fare. 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 Farò. Fare. Fare. And if you don't know, you can say non so. Non so. Non so. Non so. non so, per che? non so, per che? non so, 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 so I don't know, and sometimes you can say non lo so, I don't know it and then something that's very informal and that you don't want to write ever could be bo bo I did it frankly bo is an informal way of saying non lo so I don't know, but we use it a lot, it's very colloquial bo what time is it? che ore sono? bo come stai? come stai? come stai? come stai? come stai? come stai? come si dice? come si dice? come? come farò la pizza? come farò la pizza? you can ask byского come? How will I be in pizza? beme then I can ask come? e? boston 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 when you have come and you see you have another vowel what do I do here? come? e? come Bostol come Bostol come Bostol come Bostol come Bostol come Bostol bene bene is the adver buono buono buona buona, are you eating Bostol? oh no come Bostol come si dice Wendy come? si dice Wendy ventosa 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 e più di bella più di l'acqua bellissima bellissima molto bella oh bellissima o molto bella super let's see another kind of questions dove viene? so I can ask dove è la forchetta? o porchetta la forchetta so it will be dove è dove è la forchetta? la un stride forchetta sepia ok ok this I would read forchetta forchetta sepia la U si benissimo grazie benissimo dove è la forchetta? è e sulla segna 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 sulla is su plus la su sulla segna segna dove sono le cipolle? sulla tavola sul tavolo sul tavolo o sulla tavola you can use both tavolo tavolo tavola dov'è Michele? dove mi chi è Michele? Michele è mio marito Michele non c'è bo non c'è bo è bo è nostra come si dice il word? parola un'altra parola Michele means Michael ok it's a noun Michael where is Michael? I can say Michele e if I want to say in Waltham in a city a 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 if I want to say he's singing a a a a a yes try so you remember that here we don't use to be the verb to be but to use the verb to be the verb to stay when you have something that's going on then cantando oh, talking about music who knows the song dimmi quando tu verrai dimmi quando, quando, quando ah, ok, yes, you know it ok, well, I can ask quando quando, when did you arrive would be quando sei arrivato arrivato now, do you think I am talking to a boy or a girl yes because I used arrivato if I was talking to a woman I would say yes and I could say arrivato arrivata alle sette yes alle sette ore sette 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 or yesterday morning would be ieri 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 does anybody remember how to say morning? martina 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 I'm using the third person. If I want to be informal, va. And if I want to answer tomorrow afternoon? Sera is evening, afternoon, pomeriggio, pomeriggio. If I want to be informal, come pomeriggio. Bravissimo! Oggi cuciniamo gli gnocchi. And I'm going to use the recipe of mia zia, my aunt Mariolina. She emigrated to the U.S. many years ago, but she was born in an island here. My grandma was also born in an island. In a region that now is part of Croazia. Croazia. Is there a Trieste? It's close to Trieste. Trieste is here in Italy still. So, in this region, it has a lot of history. It was part of the Austro-Hungarian Empire for many years. Then, with the First World War, it became part of Italy. And then, that's when my grandma was born afterwards. And then, a couple of years after the Second World War, it became part of Yugoslavia. And you know that suddenly there was another war in Yugoslavia. and then Yugoslavia in 1992. 91. Yeah, 91, 92. It was split into seven different countries. So now, this island is part of Croazia. Croazia. Since we have the map of Italy, I just wanted to check your geography. So, La Vizera. So, La Vizera. Since here. La Vizera. La Vizera. La Vizera. This is out of scale. So, nobody should get offended. Okay. Which other? Austria. So, no. La Vizera is part of Spain and it doesn't have a border. in common. Yes. Austria. That would be Austria. 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 Croazia. So, La Croazia is funny. Croazia starts here. Wow. Here there is another small country. Slovenia. Slovenia. So, Italy has a border with Slovenia and not with Croazia. So, what is here? Francia. Francia. La Francia. 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 Is this it? No. No. La Spagna. Here. No. Not Nitschister. But what we have. We have two... Ah, I've got the Vatican. Si. We have here. La Città del Vaticano. It's only about a thousand people. But it's important. La città, la città, la città, la città, la città, e poi, sì, la Repubblica di San Marino, la cosa è San Marino? È un indepenente state, there are about 30,000 people living in San Marino, è essentially a city, ma... Perché è un indepenente state? That is a long 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 story. So Italy was not united until 1861. It was, yeah, it was spread into different states, we had different nominations. It would take two hours just to tell you the whole story, but it turns off being independent. La Famiglia dei Medici, it was, yeah, they were ruling in Firenze, Florence, and they were ruling a big part of Italy for many years now. So La Città del Vaticano is within Roma. What is Roma? La capitale dell'Italia. Si, la capitale dell'Italia, Roma. And La Repubblica di San Marino is in between two regions in Italy. One region is Emilia-Romagna. Emilia-Romagna. It's not this region, but Emilia-Romagna. And the other region is Marche. 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 The Marche. And then we have two islands. Sicilia. You have more islands though. Sicilia. 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 We have smaller islands, yes. I didn't understand. Where are you sailing there? Yeah. Okay, so let's say. Good! Allora, chi vuole cucinare? Yoifi! Grazie a tutti.